Una campagna per rilanciare gli acquisti in centro storico ce n'è ancora bisogno? Ce n'è ancora bisogno perché l'utente non abbia l'attitudine all'acquisto, quindi si viene in centro per passeggiare e per comprare forse ancora troppo poco. Mancano infrastrutture, secondo me per primo i parcheggi, mancano gli abitanti, i residenti, gli uffici. Quindi ben venga questa iniziativa di Confocommercio, però credo sia importante costruire una rete, agganciarci a loro, inserire le altre associazioni di categoria, il comune, perché il farecentro non è sufficiente, perché tanta gente è rimasta fuori dal farecentro e secondo me è un contributo anche da parte di noi operatori per aumentare il volume economico per fare una campagna più importante. Tornare in centro storico a fare shopping per rilanciare l'economia di un tessuto economico ancora in affanno, l'appello arriva dalla Confocommercio dell'Aquila che lancia una campagna di sensibilizzazione per riportare i cittadini a fare acquisti nei negozi del cuore dell'Aquila. Ancora tanti problemi di una città di ricostruzione che i commercianti affrontano sin dai primi mesi del post-sisma. La mancanza di infrastrutture, prime fra tutti i parcheggi, di una regolamentazione della viabilità e soprattutto la mancanza di uffici e di attività che possano ripopolare il centro. L'iniziativa prevede manifesti, cartelloni e volantini da distribuire ai cittadini e una campagna di comunicazione anche sui social network. Abbiamo aperto il 24 di novembre, abbiamo aperto con grande entusiasmo e diciamo che io ci credo tante in questa città e amo questa città, non tanto non sia italiana, però mi sento proprio Aguilana Doc. Come vanno gli affari? Si comincia a vedere un po' di movimento in centro? Guarda, io posso dire che abbiamo fatto una bella ripressa, abbiamo risposto bene alle persone, al commercio e dico che i commercianti ci devono credere proprio all'attività. Bisogna mettere un po' di entusiasmo, un po' di voglia e aprire ovviamente anche la domenica che dopo ci lamentiamo che non c'è lavoro, però non apriamo la domenica. Qualunque iniziativa possa fare con il commercio, il comune, tutte le varie associazioni sono positive perché la gente ha voglia e ha bisogno anche di qualcuno che sprona perché qualunque cosa che hanno fatto, qualunque iniziativa che è stata intrapresa nella città dell'Aquila ha fatto bene a tutti, ha fatto bene sia in primis alle persone che sono tornate in centro grazie ad un motivo e a noi che ci siamo e che abbiamo bisogno della gente che ci viene a comprare. Come vanno le cose? Si riesce a fare un po' di affari in centro storico? Piano piano, piano piano sì, piano piano sì, ci serve la gente ovviamente, sì. Grazie. 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 Grazie.